salve cari amiche e cari amici e qui ancora una volta il vostro senti ciao oggi ho caricato un video di minuto e mezzo vecchio video e ce n'iamo dopo caricheremo come premiere la mia cena che c'è di buono la carne con le patate di oggi che ho riscaldato al sugo al sugo di pomodoro il pomodoro ecco mi prendo anche un pezzo di formaggio ecco qua un tocco di formaggio carne al sugo con patata anzi patata dolce pensieri più sfizioso e che vedevo di so stanco io faccio le temi e faccio le live a voi vi piacciono però non condividete i video e mannaccia allora che riguarda da farlo se non vi condividete buono buono faccio questo video per tenervi compagnia buono formaggio sediato un pezzo perché non voglio esagerare un marzo carne patata dolce voi continuate a non condividere bene il mio carissimo amico loro tex1 invece condivide il mio carissimo amico loro tex1 ciao lui sì che quando divide in twitter in instagram facebook anche youtube in community prendete spunto ad esempio da lui poi c'era una nord americana mi ha dedicato molti video mi ha dedicato quattro video poi mi ha cancellato uno perché in uno mi diceva cose brutte e mi ha lasciato sotto un video 200 commentario per la mia superfaccia poi non c'è più fatta sentire per la mia superfaccia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti e a tutte e tutti voi per seguirmi, cari amici ed amici, sempre commentate, che bel video, ma ecco io so che LoloTex 1 condivide i miei video, ma tutti e tutti voi condividete i miei video? E io non lo so, scrivetelo nei commentari, scrivetemelo, condividete i miei video, è troppo tardi, sono le 9, ma in un quarto... Non so se oggi o domani eviterò il video e lo caricherò a Premiere. Forse domani, perché oggi non lo vedrebbe nessuno live, domani... Mi raccomando, guardate il video che ho messo nelle storie community, guardate tutti i messaggi della mia community. E rispondetemi se fatevi... Adesso taglio questo video prima che diventi troppo pesante... Il vostro sentenza di saluta e mi raccomando, andate a cercare anche fra i miei primi video, qualcuno che vi possa interessare, commentatelo, datevi like e condividetelo come fa LoloTex 1. Ciao LoloTex 1. Ciao caramente e amici, ci vedremo, ci rivedremo in un nuovo video, chissà fra quanto. Ciao! Poi volevo caricarvi in formato anche bassa risoluzione come il file cellulare attraverso un software, per non stare tutti i giorni editando. Ma mi hanno detto che così c'è o meno audience. Però qualche video è stato visto molte volte. Ciao! 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 Ciao!